Se volete acquistare credit FIFA a basso prezzo e in modo veloce, passate su igvolt.it, link e codice di sconto nella descrizione. Sopro piccante, soprattutto, ma la challenge di oggi consisterà in una manciata di peperoncini, quindi la gente morirà. Sì, sì, è bello. Vabbè no, sono due, due peperoncini a teschio per gol. E niente, possiamo andare con la situazione casuale delle squadre? Vai. Stavamo giocando casuale. 1, 2, 3, casuale. 1, 2, 3. Ma che è, San Marco Sarandi, a Barzelletta. Vabbè, vai. Sarandi, Saranda, tu madre è puttana. Ma che so ste magliette di merda, vabbè. Vabbè, perché sono belli da guardare. Orellana! Se no, guarda, chi perde se mangia tutti i semini qua sotto? Ma è vero, perché non mi fate... Vai così, Sarandi, Sarandi, Sarandi. Guarda che sto a fa, guarda che sto a fa, guarda come è pure gol. Guarda, guarda, guarda. Tu madre, tu madre. Mamma mia! Che portierone! Non c'ha mai ancora il nome di tra la maglia, pensa quanto è scarso. Fa Gundez. Poltiele. Vai così. Oddio, guarda come è porti... Dello Poltiele. Ammazza, ammazza che scanto. Cosa chiede a San Gennaro? 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 Oh dai, ma che sto a fiume? Porca puttana, no, guarda i miei qua, 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 no, vabbè, no, io ci voglio credere. Ma che spasti ci so? E' una partita fra bronzi. Sono dei passaggi oremi. Oh mio Dio, l'ha fatto! Per che cazzo non esce il portiere? Tu madre! REEE! HA HA HA! Guarda, guarda, il mio è... Il mio è palesemente ubriaco, eh. Oh, Cristo Dio, mamma mia, cioè il pressing dei miei giocatori. Ma chi, guarda, guarda che spastico di merda. Ehi, 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 attuale, ehi, 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 ah! Vaffanculo! Che cazzo! Non fatto il pennino? Non ci si va? Non volevo buttare il piatto, quindi più, guarda, non era... Ma tu sei proprio malato! L'ha detto lui, eh, due ragazzi, due, due. So due. Ne mangio 34. Secondo me conviene che me ne mangio uno di qua, uno di qua, e tutti i due di qua? Secondo me come ti metti tutto il cuore al culo? Però... Non fa il crimine, sto appena lavato i denti. Ma che cazzo era? Oh! brividi body boo ahahah io manco sapevo che dobbiamo fare questa challenge ti hai cominciato bello ragazzi oggi challenge bimbo ero uccidi eccolo ragazzi ho passato tipo 5 minuti dal gol veramente hanno ammazzato io non so se mi vedete bene in faccia però questa è la faccia del dolore sto su da freddo perchè famo ste cose no ma dove dai abito di me si uuuu cioe palpitazioni non hai capito non riesca a respirare a freddo che cazzo facundez facundez no non me ne in culo proprio facundez e niente abbandona attenzione io intanto approfitto per il tiro guarda come si è infilato bene oddio guarda pure lui guarda nooo guarda nooo beh ecco è rinato è rinato quanto mi sta a girare la testa ma io devo morire se tu non soffri via sto coso ho le orecchie a tappate ma pure io tu eh si guarda come scrocchia sta merda la bella è che io sto più a pezzi di lui guarda non ho fair play buono buono mi posso riacchiappare sto sto ferendo ho fatto una cazzata ho fatto una cazzata cosa che ho fatto sto smonciolà lo vediamo ho fatto sto smonciolà ma lo giusto insieme guarda che è meglio no peggio no 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 io vorrei far vedere quanto sono rosso no 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 è stata una cazzata inizio però dopo dopo hai fatto un po' il hate you are right si you are right ancora per me si allucinogenissime a me fanno peggio del cioè perchè non abbiamo mai fumato però si dice che si dice che faccia se effetto esatto perchè ti giuro io mi sento tipo la adesso io non ci sento la bravo vabbè dai a me davvero mi vanno affetto a luci a luci cinema vai sarandi sarandi io credo in te eh perchè non mi fa la solata chris e ma cazzo stai a giocare a corsa al marcos no per lui oh no 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 ti prego guardalo 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 mamma mia michel caneo uuuu ahahahahah fate sta pippata allora guarda guarda l'alternativa è che io prendo prendo due peroncini te li scripolo qua e tu te li pipi ma che cazzo come andare all'ospedale proprio allora sei morto perchè mi prego a dirci oggi c'è zii zii c'è zii zii non hai capito zii vabbè uno bello grosso però dai si simi ecco no ahahahah 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 che cazzo sei via no niente che sta accadendo tanto ben fatta e allontana vedi dai 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 fammela ah apri la mano io te ne verso un po' il quello più grosso lo pì ok ma che c'è quello più grosso che è raga dai tanto stiamo puttando non stiamo su non stiamo su non stiamo su ah apri sta cazzo non stiamo sull'ardiatina che sia quello più grosso vabbè dai che c'entra l'ardiatina ah ahahah non senti niente serve l'acqua allora no 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 vai gioca gioca gioco sento niente io sento niente ahahahah Ancora Gioca, gioca, gioca Oh, 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 arbitro Non c'è giù niente Non c'è giù niente Oh, cazzo, l'acqua andava a b Oh, io segno, te lo dico, eh Chiaramente è meritata da San Marietta Come cazzo si chiama? Ragazzi, non c'è giù niente, raga Mi vengono i brividi di freddo Vai, 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 Sarandi Che sei tutti noi, porco due Rappresenti l'Argentina in questo momento Tutti gli argentini che ci seguono Ma lascherzo, 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 lascherzo Lascherzo, lascherzo Puttana, la mano Cian, sì Riguori, cazzo No, non è rosso Rosso, come il peperoncino Guarda, guarda Eeeh Oddio Ma che magica Che cazzo sto del culo Annaggia Vabbè, io batto l'angolo, vai Oh, fammi un dance, fammi un dance Dai, non fa il pezzo di merda No Guarda, 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 guarda Guarda che sto a faa 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 Sto cazzo Oh, sto cazzo Guardalo, Mugnoz 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 Oddio, Mugnoz 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 Oh, oh, Mugnoz, non so più che fao Oh, oh, oh Oh, mio Dio Ha rotto il cazzo Ma, oh, ma tu no, sei scorretto Ma so scorretto un par de palle So scorretto Si, sei un cazzo Oh, vaffanculo Ok? Vaffanculo te Si, ah, 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 ah sapevo che fa VATTI LÈE VATTI LÈE no dai non corri regà me frega un cazzo me fotte una sega so vincere dai dobbiamo dire che però no un po' segnate oh 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 che bello ma f***o 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 mamma mia vado a vincere voglio che ci taggate su instagram con l'hashtag vaffanculo allo screen migliore del video quello che mi è piaciuto di più a me fa troppo male tutto e niente ragazzi ci vediamo al prossimo video come sempre seguiteci lasciamo le 5000 like e consigliateci una prossima sfida da fare io sono fattissimo ciao ciao